Un salto col paracadute Realizzare qualche sogno Realizzare il gruppo giovani in Gambania Riuscire a portare il gruppo giovani in Valle d'Aossa Che ha un passo che riesca sempre di più Spero di entrare all'Università di Medicina Entrare in Medicina al posto di Andrea Mettersi a dieta ma anche oggi si comincia un medico Riuscire a mettermi a dieta veramente da lunedì Tornare a fare sport e fare un tatuaggio che per me è una cosa molto importante Spero di trovare lavoro, spero Riuscire a far crescere sempre di più il mio gruppo giovani Dato che è la mia famiglia e ci tengo tanto Buon anno a tutti Buon 2017 Buon 2017 a tutti Buon 2017 a tutti Buon 2017 Buon anno a tutti Buon 2017 a tutti e anche a quelli che si mettono a dieta Buon anno a tutti Buon 2017 a tutti Auguri Buone feste Buon Natale Buon anno Buon anno